Allora, proviamo a provare i pezzi per l'esercizio. Questo è solo un Street Fighter 4 Joypad Madden Cut È bruciato Questo è un primo video esperimentale con un setup gaming creato con questa strada led Ok, let's change the color Oh, this one, blue light The Xperia 10 Plus The Xperia 10 Plus has a very large, very horizontal display and this is helping when playing on PUBG PUBG nel primo secondo c'è qualche lag perché vedete molti poligoni non siete troppo lungi ho partito in un minuto un grande gioco vi ho partito in una pubblica in cui tutti stanno già in situazione non fa tempo i tuoi compagni vengono uccisi tutti ma no ma troppo laghi troppo laghi si preso ehi mate ma i moto dei stoli di moto enemy mini 4 attenzione mini 4 i miei piatti preferiti il mini 4 i miei piatti preferiti 4 attenzione i miei piatti preferiti 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 okay let's pick up enemy Grazie. FFGTUVEMASK 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 Grazie. 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 Grazie, grazie al live. Where is him? We are free. This is the great final, the chicken final, you saw that he is striscia, he is there. Hmm, these bugs that I odia. Hop, 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 hop. Ci pensa lui? Pum, chicken winner. Uuuuuh. Solid Snake Origi. Solid Snake Origi. The audio is late. A half second. Chicken Dinner, thanks, thanks mate. My companion was strong. So, Chicken Dinner on the side fish side, even with some lag, with some micro lag, the audio is a bit late, but you can, with some patience, we can get a second dinner, even on Xperia 10+, and the game is working with the Android 8 Liar. Let's see the statistics. The nerd statistics. Oh, no, 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 no. Grazie.